Siamo già a 200 kg Sono a 279 e 291 perché oscilla molto 300, 400 è solo A seconda si trova qualcosa di duro Paolo in questa situazione qui sono un 300 kg Così, potrei aumentare A me ne arriva 500 kg Ah sì? Sì sì Pensavo che è il primo accedimento Non stare troppo lì dietro Luca Lui va da su un pianchettino Ah, ha ferito la testa Quanto è? Come bruschi 370 kg Ma lui va a 370, va a 280 Se vuoi vado a 500 Ma sta tagliando tutto lì? No, 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 muola Non arriva mica a 500 Quanto sia? Da 420 a 380 Perché sta perdendo? Sì sì, ma per forza Perché dopo c'è Su un picco 441 Si deforma, si deforma No, poi si taglia anche Sì sì, ma infatti Non è elastico Ma io ho finito Ho finito Sì, ho finito il mule Il cosa? Ho finito la corsa Ti devi avvicinare Tornate indietro? 6 Quanto? 300 300 300 370 320 480 500 adesso 500 fisso Continuo 500 continuo 500 continuo 508 514 520 510 520 520 499 Oscilla lì dai Però l'abbiamo scherzato È andato contro il ferro Non ha senso 471 530 Finito? Basta Non voglio romperla Sì, infatti Scaricavo Aumentava Non ho paura Questo vado io Vado a dire Vado a dire Vado a 190 Questo tiene di più Perché c'è Meno carico Meno carico 270 280 Ah, 174 di colpa Va bene 330 340 350 Sì 350 Questo non fa una piega In tutti i sensi Ma perché? Perché è meno carico È la forma anche Poi è meno carico Chiaramente Lo sapevi già, vero? È la forma più piatta È più regolare Per forza 365 Fisso Il problema è la forma Il problema è la forma Del veicolo Noi prendiamo La forma Del veicolo Il problema è quello Dopo il giochino Che è fatto nel centro Tipo croci Orizontali Verticale È fatta sia Dipende dal veicolo No no Dipende dal veicolo Tutto sul veicolo Ok 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 Perché cerchi? Dio vuoi Ci sono accidati tutti Dio vuoi Dio vuoi Dio vuoi